allora oggi è una giornata molto importante perché il 23 di maggio ma non c'entra niente che la giornata importante per uno solo motivo perché oggi si accende il magma grill e adesso vediamo come si monta ma per i più ignoranti cos'è il magma che cazzo è il magma fare il magma riprendi gli ignoranti 1 io lo sapevo cos'era il magma certo che lo sapevo allora il magma una genialata che qualche americano si è inventato e hanno fatto tutti gli accessori top per le barche per mangiare e bere cioè come piace a noi quindi adesso vediamo il processo di installazione e il processo di mangiazione ma immaginazione di magma di nutrizione grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501